Il movimento politico sviluppo ebleo chiude i battenti. Il gruppo fondato a Vittoria, 11 anni fa, da Andrea La Rosa, confluisce in Forza del Sud. Era l'anno 2000 quando La Rosa, che proveniva dall'esperienza dell'Alleanza Nazionale, fondò il nuovo soggetto politico con l'obiettivo di creare uno strumento che con una chiara vocazione localistica puntasse allo sviluppo del territorio. Sviluppo ebleo fu presente alle elezioni di 5 anni fa, ottenne buoni risultati ma non scattò il seggio. Questa volta, invece, il presidente Andrea La Rosa è stato il consigliere più votato e di recente è stato nominato responsabile organizzativo provinciale di Forza del Sud. Ora, anche per il movimento da lui fondato, è arrivato il momento di un percorso diverso. Il segretario Viaggio Pelligra parla di un momento di ulteriore maturità che è stato avviato. L'intero movimento, insieme alla Rosa, transita in Forza del Sud. Non vedremo più il simbolo con la testa del cavallo che ormai era entrato nella storia recente di Vittoria. Il gruppo sarà vigile sui tanti problemi della città, pronto a segnalare i problemi e chiede alla nuova amministrazione che al più presto si cominci a dare le risposte che la città si aspetta. Grazie.